E' come se fosse il primo giorno della scuola? Sì, già da ieri sera ero un po' emozionato come se dovesse preparare la cartella, così preparare la roba per oggi. Iniziare è sempre un piacere, sempre emozionante, soprattutto partire con i giusti stimoli, ritrovare tutti i ragazzi, i compagni, è sempre bello, sempre bello. Ti vedo già motivato in chiave november? Sì, è già da un anno che ci lavoro, insomma così arrivo preparato. Raccontami che sensazione hai per questa nuova stagione? Allora, per questa nuova stagione solo sensazioni positive per adesso. Secondo me è importantissimo iniziare con i piedi giusti, con la giusta mentalità. Questa è la mia quarta stagione, mai come quest'anno ho ritrovato un'organizzazione, una squadra, uno staff così motivato e competente. Lo è sempre stato, ma quest'anno secondo me c'è qualcosa proprio in più. Ho percepito anche io, ho avuto quella sensazione. Per ogni giocatore l'aspettativa sia quella sempre di puntare sempre in alto come prestazioni, come opportunità che si possono creare. Altrimenti secondo me non avrebbe senso fare uno sport. E come club, ce lo siamo detti prima in riunione, penso sia ovvio a tutti quello che vogliamo raggiungere quest'anno. Play-off ovviamente. Sì, il minimo è il play-off. Saluti in particolare o ringraziamenti? Sai che alla fine io finisco così, perché è giusto secondo me. Saluti in particolare, vabbè, ovviamente alla mia famiglia, a mia nonna soprattutto, le mando un grosso bacio e a tutti i miei compagni di squadra. Buona continuazione. Grazie. Ciao ciao ciao. Imbadiamo un po' anche l'intimità del spogliatorio e adesso cerchiamo di beccare un altro. Qui c'è la palestra. Eccoci qua. Tutto bene? Tutto bene? Hai imparato l'italiano? Vediamo, sentiamo, faccio il test. Come sta andando? Bene, alla grande. Abbiamo cominciato, cominciamo questa settimana, ma speriamo che sia un gran anno per noi e puntare l'Escudetto. Ricordate che io ti conosco bene, altri non ti conoscono. Chi sei? Anni? Aspettative? Sono Juan Bagenfai, ho 21 anni, vengo dall'Argentina e aspettative puntare l'Escudetto, vincere l'Escudetto con questa squadra, mi sa che si può fare. Che stai facendoti oltre il fatto di dedicarti al rugby? Estudio, economia a Parma, speriamo che vada bene, mi manca ancora molto, ma ci siamo. A chi salutiamo allora? In italiano e in spagnolo? Salutiamo la famiglia che è in Argentina, tutta la famiglia, mi ragazzo e basta. Tu clave o no mi ricordo dell'Argentina? San Isidro Club. Ah, sì? Sì, sì, sì. Salutiamo la... Saludiamo a La Sanja, entonces? Ovviamente, ovviamente. Un saluto a La Sanja e che vi sia bene questo anno. Allora, velocemente prima della vostra partenza. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Grazie al pilota, può aspettare il pilota? Sì, sì, posso aspettare. Benissimo. Allora, ci siamo. Mettiamoci qua che si vede anche che siamo a Enraghi Vailano. Nome e cognome, Ani, club formatore. Come mai qui a Vailana? Allora, Matteo Nicolò dell'Acqua, 91, club formatore. Io sono nato reggisticamente a Lainati, in provincia di Milano. Dopodiché ho passato un anno alla Grande Milano, anzi due anni alla Grande Milano, quando c'era ancora la 1 e la 2. Dopodiché ho fatto Parma a Crociati e dopo cinque anni a Reggio. E quest'anno qua a Vailana perché penso sia un club molto buono a livello di strutture, di staff, di ambiente soprattutto e speriamo di far bene quest'anno qua. Tuo ruolo preferito? Ruolo preferito o terza linea? Gioco terza o seconda linea? Però terza la più bella. A chi salutiamo? Salutiamo a Francesco Menon. Infatti chi si sta affettando? È qua, è qua dietro. Buona continuazione. Ciao Francesco. Bravo pilota. Guarda l'altro sempre mediaticamente. Hola amigo. Veloce, una battuta qua. Vieni, vieni che lo facciamo in modo informale. Raccontami, Hooker, come aspetti quest'anno? Bene, bene. Siamo partiti bene, carichi. Speriamo di una bella stagione. Speriamo, speriamo. Siamo carichi, carichi, carichi. Sai che qui oggi siamo anche in bestia di uomo di Rugby Meat. La domanda, Sorge Potani, a chi salutiamo di Rugby Meat? Salutiamo Daniele Goegan. In vacanze. In vacanze che sta facendo una bella vita, però lo salutiamo, lo salutiamo. Benissimo, buona continuazione. Ciao, ci vediamo prossimamente. Ciao Francesco. Anche te, salutiamo chi? Eh, salutiamo tutti i miei amici di Firenze, famiglia di Firenze, che ho fatto il pieno d'amore in queste vacanze e mi hanno fatto venire qua con un bel sorriso, dai. Benissimo, buona continuazione allora. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Et voilà. Ciao, ciao.